Ben ritrovati con un po' di difficoltà tecniche di connessione per una nuova puntata del ciclo di Catechesi Adamo e la vita nella divina volontà che è giunto alla ventunesima puntata che ci porterà ci permetterà questa sera di continuare il nostro viaggio nell'Eden con Luisa ad andare ad approfondire a scoprire sempre più e sempre meglio cosa vivevano i nostri progenitori che stasera andremo parecchi in alto insomma vedremo delle scene molto molto suggestive molto molto belle che non fanno certamente altro che approfondire e dare alcuni dettagli su ciò che già sappiamo dalla rivelazione ma molto suggestivi quindi rientriamo di nuovo in questo mondo perduto potremmo chiamare anche mondo sconosciuto per molti aspetti perché la rivelazione è molto sobria su questi punti quello che c'era quello che non c'è più è quello che possiamo in qualche modo recuperare quello è il senso di questo ciclo di di Catechesi appunto su intitolato Adamo e la vita nella divina volontà io direi di passare subito alla lettura siamo nel ventiquattresimo volume ancora nel ventiquattresimo volume abbiamo un brano questo molto lungo e credo che ci limiteremo a questo perché anche il seguente è molto lungo e quindi quando ci sono brani molto lunghi e bene soffermare la propria attenzione soltanto su su questi 3 giugno 1926 volume ventiquattresimo proviamo a leggere subito insieme senza dilungarci necessi preamboli allora continuo il mio abbandono nel volere divino girando in esso la mia povera mente si è trasportata nell'eden nell'atto in cui dio stava formando la natura dell'uomo prima di infondergli in anima e pensavo al grande amore con cui il supremo creatore formava il corpo umano e è come prima che Adamo esistesse nel formare il suo corpo lo amava con amore di padre che ama il suo figlio e che non esistendo ancora la vita dell'anima di Adamo non lo ricambiava col suo amore quindi l'amore divino restava isolato senza la compagnia dell'amore della sua creatura onde non era giusto che il suo amore restasse senza il ricambio del piccolo amore di chi tanto amava quindi pensavo tra me la volontà divina è eterna e ciò che si fa in essa è sempre in atto ne perde mai l'atto presente perciò nel fiat voglio anticipare l'amore di Adamo e vezzeggiare il mio creatore col mio amore nell'atto in cui forma il corpo umano voglio farei col suo amore per dirgli nel tuo volere sempre ti ho amato anche prima che tutte le cose esistessero avverto subito che su questo punto quando torneremo nel commento ci saremo molto a lungo questo è un passaggio fondamentalissimo che chi intende bene questo passaggio sta già abbastanza messo bene nella comprensione del grande dono della divina volontà e di alcune sue leggi dinamiche proprio intrinseche figlia mia noi mentre formavamo la natura dell'uomo prima di infondergli la vita facevamo come un padre o una madre quando dorme il suo figlio preso da tenerezza e d'amore irresistibile vagheggia, bacia e stringe dal suo seno il figlio che dorme e il figlio siccome dorme non ne sa nulla se sapessi figlia mia quanti baci, quante strette amorose demmo alla natura umana prima di darle la vita e fu nella foca del nostro amore che alitandolo gli demmo la vita, dandogli l'anima e al corpo il respiro, il palpito, il calore sicché il respiro che tu senti è nostro il palpito che ti batte nel cuore è nostro il calore che tu senti è il tocco delle nostre mani creatrici che toccandoti ti infondono il calore come tu respiri noi sentiamo il nostro respiro che respira in te come palpita il tuo cuore così sentiamo il nostro palpito di vita eterna che batte in te e come senti il calore è il nostro amore che circola in te e continua la sua opera creatrice e conservatrice per riscaldarti tu devi sapere figlia mia che il nostro volere è il rivelatore dell'opera della creazione solo esso può rivelare tutti i segreti di amore nascosti nella creazione Adamo non seppe tutto quanti stratagemmi e finezze amorose mettemmo nel creare l'anima e il corpo noi facciamo come un padre che non dice tutto insieme al suo figlio vicino ma man mano che cresce vuol dargli le sorprese dicendogli o quanto dicendogli quanto lo ama quanto ha fatto per lui quante finezze amorose e baci nascosti quando lui piccino era incapace di comprendere che cosa gli aveva dato e che cosa gli può dare ed ora gli fa una sorpresa ora un'altra e ciò serve a mantenere la vita d'amore tra padre e figlio e in ogni sorpresa aumentare la loro gioia e la loro felicità quale dolore non sarebbe per questo padre che ha coperto di baci il figlio mentre dorme la stretta al cuore e con tale tenerezza amorosa che è giunto a bagnare di tenero pianto il volto del bimbo che dorme se il bimbo svegliandosi non sorride al padre non gli si getta al collo per baciarlo e se lo guarda con freddezza ma quale dolore per questo povero padre tutte le sorprese preparate da manifestare al figlio se le chiude nel cuore col dolore di non poter dividere la sua felicità le sue gioie più pure fino a non potergli dire quanto lo ha amato e ama così fu per noi figlia figlia mia la nostra più che paterna bontà preparava nuove sorprese al nostro figlio amato e il nostro volere divino prendeva l'impegno di essere rivelatore ma come Adamo si sottrasse adesso perdette il rivelatore perciò non si sa quanto lo amammo e tutto ciò che facemmo per lui perciò sentiamo l'irresistibile amore che il nostro Fiat venga a regnare come in cielo o così in terra affinché dopo tanti anni di silenzio e di segreti dia sfogo alle sue vampe e ritorni ad essere rivelatore della creazione perché poco si conosce di tutto ciò che facemmo nel creare l'uomo poco quante sorprese ha da dire quante gioie e felicità ha da comunicare tu stessa non senti quante cose ti dice tanto ciò che riguarda il mio volere divino quanto sull'amore sorprendente di tutta la creazione e in modo speciale la creazione dell'uomo la mia volontà è il libro della creazione perciò per saperlo e poterlo leggere è necessario il suo regno in mezzo alle creature la volontà umana tiene come addormentato il povero uomo lui dorme e il sonno gli impedisce di sentire e di vedere tutte le carezze di amore che gli fa il suo padre celeste e le sorprese che gli vuole far conoscere il sonno gli impedisce di ricevere le gioie la felicità che gli vuol dare il suo creatore e di comprendere lo stato sublime della sua creazione stato sublime povero uomo assonnato per il vero bene e sordo per ascoltare dalla mia volontà che è il suo rivelatore la sua nobile storia la sua origine la sua altezza e bellezza meravigliosa e se veglia sente per il peccato per le sue passioni o per cose che non hanno un principio eterno fa proprio come il bambino che dorme che se si sveglia piange fa le bizze mette in croce il proprio padre che è quasi dolente di avere un figlio così irrequieto e perciò il mio volere divino sta rivelando tante sue conoscenze per destare l'uomo dal suo lungo sonno affinché svegliandosi nel mio fiat perda il sonno dell'umana volontà riacquisti ciò che perdete e possa sentire i baci l'amore le strette amorose che gli dà al suo seno il suo creatore sicché ogni conoscenza che riguarda la mia volontà divina è un richiamo una voce che emetto un grido che mando per svegliare l'uomo dal sonno dell'umano volere sonno dell'umano volere abbiamo sentito ecco mi viene proprio in mente di dare come titolo a questa chiamiamola catechesi meditazione conversazione come preferiamo proprio il sonno dell'umano volere è un passo che anche questo a mio avviso semplicemente spettacolare bellissimo io ogni volta che sento queste cose dal momento che ci credo veramente e nella vita quando si comincia ad entrare in questo mondo se ne vedono i primi barlumi si rimane veramente senza parole cioè io invito per esempio chi ha il testo davanti che ha preso il libro chi può rileggerlo a volo di gabbiaro quante volte ricorrono i termini gioia e felicità 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 preparate da Dio per noi per qui quindi per il pianeta terra non per il paradiso perché lo sappiamo che in paradiso c'è la gioia e la felicità almeno chi ci crede io ripeto lo dirò fino alla nausea da questo annuncio di pace di gioia e di felicità terrena rimasi folgorato fin dai primissimi giorni che conogli questi scritti e ci ho creduto e ci credo in effetti Adamo è la vita nella divina volontà c'è proprio il messaggio fondamentale anche in questo brano che abbiamo letto che è anche poi il messaggio fondamentale di questo ciclo di catechesi un po' mirate no? qual è? molto semplice che è possibile tornare a vivere un paradiso terrestre non identico in tutto a quello che c'era ma un vero paradiso terrestre perché caratterizzato da alcune cose da alcuni stati come dire di vita che sono uguali a quelli dei beati almeno nel genere poi certamente nei particolari nella specificità c'è qualche differenza ma nel genere no allora pensiamo soltanto adesso andiamo non troppo con ordine no se un essere umano che legge queste cose prende sul serio prende sul serio queste parole di Gesù per dire chi si mette in contatto con questo mondo davvero e ci vive ma come fa per esempio essere depresso tu come fai a essere depresso ma come cioè povero uomo assonnato per il vero bene e sordo per ascoltare per ascoltare dalla mia volontà che è il suo rivelatore cosa? la sua nobile storia lui sta parlando a me a te non sta parlando in genere sta parlando a Luisa la nobile storia mia è tua la sua origine la sua altezza e bellezza meravigliose cioè che cosa traspare da queste pagine cioè qui Gesù ci apre qualche squarcio qualche dettaglio sulla creazione e che cosa ci ha detto di come Dio stava tutto in fibrillazione ha creato attenzione prima il corpo poi quando stava creando l'aria dice noi gliela mettiamo ma che bella che sarà non vedo l'ora adesso vum e poi gliela mette cioè la gioia infinita di Dio di creare l'uomo la perfezione con cui l'ha creato quanto è stato felice di averlo fatto non vedeva l'ora di sentire da subito il ricambio la compagnia dell'amore della creatura capito cioè come fa uno ad essere depresso questo non è detto di un singolo uomo dice no ero contento di Adamo no la stessa cosa vale con te cioè quando Dio ha pensato la tua anima di chiunque tu sia che stai seguendo in diretta o che ascolterai l'MP3 o il video quando Dio se e quando Dio vorrà tu devi sapere quando Dio ha creato la tua anima era tutto contento e non vedreva non vede non vedrebbe l'ora di vederti felice posso sentire i baci l'amore le strette amorose che gli dà il suo seno il suo creatore io dico noi cioè che capito io sento queste cose ma io ci credo che questo è quello che Dio vuole dice il polvere divino sta testando tante sue conoscenze sto andando un pochino alla rinfusa nella meditazione di questo brano mi si perdonerà adesso sto leggendo le ultime righe perché Gesù ha detto tutte queste cose a Luisa ha rivelato questo mondo della divina volontà perché lo spiega per destare l'uomo dal suo lungo sonno dormi dormi pro alledargo affinché svegliandosi nel mio fiat perde il sonno dell'umana volontà bellissimo dopo riprendiamo questa espressione causata prima Gesù perde il sonno dell'umana volontà e possa sentire i baci i baci ah oh qua dice i baci l'amore le strette amorose che gli dà al suo seno il suo creatore c'è qualcuno che non le vuole queste cose qua cioè infatti conosci tutte queste cose perché per farti cioè conoscere il mio cioè i baci l'amore le strette amorose cioè tante volte ho detto perché dopo al fine non le dice sempre le stesse cose cioè io tante volte nella mia vita cioè ho fatto seminarista sopra da 15 anni insomma sono stato vicino agli ambienti ecclesiari quante volte abbiamo sentito dire che ci fanno una testa così e di amore di amore di amore cioè sì lo senti beh meno male che è amore che non è nient'altro però è un qualche cosa almeno io l'ho sempre vissuta un po' così sì bella però un pochino cioè un po' indefinita indeterminata cioè ma io che Dio amasse me proprio me personalmente me lo volesse far vivere questa cosa qui non semplicemente perché qualcuno mi fa una testa come un pallone che Dio è amore che Gesù è misericordia ma quello che lo senti lo vivi tu si vive personalmente nel tuo personale rapporto col Signore e questo non è come dire un sogno una chimera è una promessa che Gesù ha fatto è bellissimo questa cosa qui chi è che ascoltando queste cose non direbbe magari Signore mio approfondiamo io il modello che ho approfondito è stato questo io il modello che ho approfondito è stato questo perché invece proprio un come dire un mondo una una rivelazione nella rivelazione perché queste cose le sappiamo già per certi aspetti ecco però in alcune evidenziazioni in alcune sottolineature in alcuni dettagli qui fondamentalmente sono la roba stringe queste cose due o tre punti esiste una volontà umana esiste una volontà divina punto primo la volontà umana è il principio di ogni infelicità che tu vivi tu la vivi non è che la vivi da qualcun altro al posto tuo tu la vivi la volontà divina è il principio di ogni infelicità possibile e immaginabile non solo in paradiso ma anche qui anche qui entrare in questo mondo è possibile come se non è possibile possibilissimo perché Dio lo vuole e perché lo vuole lo vuole semplicemente per farsi da te conoscere nel suo essere più profondo amore infinito che ti ha creato solo per amore che ti ha creato per farti felice vivendo nel suo amore fin da adesso per pregustare qui in parte certamente non ancora in maniera assoluta ma vera comunque la felicità e la gioia che vivono i beati in paradiso adesso capite? cioè quando uno ha questo canone interpretativo no? proviamo un attimo cioè pensiamo sempre io dico sempre pensiamo ho detto l'altro domenica scorsa ho fatto una botta alla Papa Francesco no? dico sapete che quando saremo morti il nostro signore ci dirà una grande cosa hai pensato? perché non pensare è peccato mortale ho detto io dico facciamo una botta alla Papa Francesco ogni tanto dirà fuori qualche peccato mortale un po' inedito no? quando parlavo del terrorismo delle chiacchiere io sottoscrivo con 30 pennarelli il chiacchierone è un terrorista è peggio di un terrorista d'accordo? e deve confessarsi deve e non può una fase della comunione come se niente fosse il chiacchierone eh? quello che sta a spande maldicenze e fango a destra e a manca di tutti anche l'uomo che ho fatto la messa di questa di questa sera non giudicherà secondo le apparenze non prenderà decisioni per sentito dire no? quindi dentro l'orizzonte ho perso un attimo il filo e ho fatto una divagazione ma stavo dicendo una cosa un po' più importante non pensare noi dobbiamo pensare noi dobbiamo pensare allora se vivere nella divina volontà vuol dire che gradualmente tu cominci a vivere una vita piena di gioia e di felicità profonde pensa a quello che fai pensa a quello che pensi pensa a quello che dici vediamo se ci abbiamo mai pensato questo criterio di riscermimento quello che pensi è una cosa che ti dà felicità ti dà gioia o ti dà tristezza agitazione turbamento leva subito quel pensiero levalo subito perché non viene da Dio levalo subito quella parola che dici al prossimo ti dà gioia sei contento di averla detta ti dà felicità ti fa stare bene o ti lascia la mare in bocca non la dire quella cosa che hai fatto ti ha fatto contento ti ha fatto felice ha fatto felice pure il prossimo no non la fa più pensare cioè se il richiamo della divina volontà ci ha detto Gesù è che cosa voleva fare il Signore creando l'uomo finezze amorose baci nascosti poi quando si svegliava il bambino l'immagine dell'inizio dice gli ho fatto prima il corpo e poi l'ania perché e quando ancora c'era il tanto il corpo intanto me lo cominciava a cullare in attesa come un bambino che dorme che i genitori lo prendono perché intanto me lo spupazzo un po' poi quando si sveglia gli faccio una bella sorpresa e Gesù dice noi facciamo come un padre che non dice tutto insieme al suo figlio piccino a mano a mano che cresce vuole dargli le sorprese cioè vuol dire che questa vita qui tu ogni mattina che te svegli puoi dire ma oggi che si inventerà il nostro signore che si inventa oggi quale bella cosa mi farà vive è così cioè abbiamo come dire quasi il diritto di pensare perché se non lo fai che hai detto qua io glielo chiedo al nostro signore che hai detto non lo fai io sto facendo il possibile entrare in questo mondo voglio vedere sorprese che sorpresa mi fai oggi noi possiamo farlo l'ha detto lui l'ha detto ora gli fa una sorpresa e ora un'altra e ciò serve a mantenere la vita d'amore tra padre e figlio e in ogni sorpresa aumentare attenzione la loro gioia e felicità attenzione questo è un altro punto fondamentale io prima volta che leggio queste cose dico ma dico ma stiamo scherzando no Gesù non dice ogni sorpresa che ti faccio aumenta la sua gioia cioè la mia è chiaro il nostro signore mi fa una sorpresa a me mi fa una cosa bella che viene dal cielo e dico tanto sono contento alla mia no la nostra gioia e la nostra felicità perché è contento pure lui è contento pure lui cioè un altro punto chiave a mio avviso io sono l'ultimo arrivato nel mondo della vita non lo dico è la verità ci sono persone molto più esperte di me su questi argomenti quindi quello che io dico è quello che percepisco insomma no a livello però Dio è realmente contento della nostra felicità della nostra gioia cioè anche a mio avviso anche nella comprensione di alcuni concetti teologici il peccato offende Dio perché il peccato offende Dio come perché offende Dio il peccato priva Dio della gioia di vedere me felice e quindi di godere di riflesso perché questo lui lo vive realmente della mia felicità capite noi non capiamo bene questa cosa perché non capiamo bene cos'è l'amore l'amore gode del bene altrui la virtù formalmente contraria alla carità attenzione non è la lussuria come qualcuno pensa ma è l'invidia il contrario della carità perché l'invidia non si non gode del bene altrui ma gode del male altrui e non si rattrista come la misericordia cioè l'amore diventa misericordia quando l'amore compatisce il male altrui per toglierglielo o per aiutarlo questa è la misericordia invece l'invidia mica compatisce il male altrui se ne rallegra del male altrui e si rattrista del bene altrui è il contrario esattamente è il contrario della carità e infatti poi spiega che un papà così buono e copre in questo modo i baci di figlio Gesù dice ma quale dolore per questo povero padre se vede il figlio che se lo fila proprio oppure è freddo tutte le sorprese preparate da manifestare al figlio se il figlio si fira proprio si richiude nel cuore attenzione al dolore di Dio che cos'è il dolore di Dio questo il dolore di non poter dividere la sua felicità le sue gioie più pure fino a non potergli dire quanto l'ho amato e lo amo io amici miei carissimi non ho mai conosciuto in vita mia ne ho detto tante volte ne ho letti tanti niente che mi facesse veramente più percepire più convincere profondamente dell'amore di Dio che questi benedetti scritti io per esempio c'è il testamento d'amore stupendissimo che Gesù ha lasciato sono le ore della passione io se il Signore mi aiuterà le pregherò tutti i giorni della mia vita ma non perché uno vuole fare prega vuole fare l'asceta o l'uomo c'è ma perché ogni volta tu ti accosti lì cioè tu devi fare un bacio vedere alcune cose alcuni particolari ma come fai commoventi cioè quello è il libro è il libro dell'amore folle di Gesù per me me lo fa vedere me lo mostra in continuazione me lo fa vivere e come si fa ora torniamo facciamo un passo indietro perché ci sono alcune cose da considerare vedete che qui nel racconto adesso andiamo un pochettino più dopo questa parentesi un po' chiamiamola un po' appassionata andiamo un pochino un po' più sul sul dottrinale perché la scena di questo scritto si svolge quando Dio aveva allora la gente ci dice che Dio ha plasmato Adamo dal fango d'accordo quindi che c'è stato prima come dire la componente materiale dell'uomo e poi l'anima come viene annotato nella nota del redattore di questa raccolta di brani su Adamo che credo che sia senza credo credo sono quasi certo che sia Don Pablo Martin giustissimamente dire questo significa primo escludere la preesistenza delle anime le anime non preesistevano a nulla l'anima l'anima è creata immediatamente dal Signore per questo corpo di cui ha forma la mia anima Dio l'ha creata nel momento del mio concepimento d'accordo c'è qualche autore voi sapete che il fatto che Dio crei l'anima al momento del concepimento è dottrina comune non è un dogma non è proprio un dogma di fede ok è una dottrina comune cioè la sentenza qua più tenuta dagli autori e dai teologi è che appena concepito si crea l'anima ci potrebbe essere da parte di qualche autore tra cui San Tommaso D'Aguina con piccolo intervallo temporale l'unica cosa che è certo è che o la cosa è contestuale o viene prima la materia e poi l'anima ma il contrario quindi non c'è nessuna preesistenza dell'anima questo è escluso questo invece di fede questo qui non ci sono preesistenze dell'anima inoltre dobbiamo anche fare un'altra considerazione che tutta la dinamica di questi scritti è assolutamente escludente l'evoluzionismo assolutamente assolutamente e in questi scritti il Signore Gesù l'abbiamo anche sentito parlare in qualche puntata precedente insiste molto sulla storicità di Adamo come persona realmente esistita e creata direttamente da Dio sia nel suo corpo che nella sua anima che è esattamente come dire la sostanza di ciò che il libro della Genesi ci trasmette ok e questo è gloria della divina volontà capite perché l'uomo è il capolavoro della creazione materiale almeno è il vertice della creazione materiale quindi tra le opere della divina volontà è l'opera delle opere insomma perché ha una bellezza uno splendore una somiglianza con Dio forte questa è la bellissima adesso mi ero riproposto perché questo ci insegna anche a noi a pregare allora qui il mondo della divina volontà è un mondo cioè quello che dico che ripeto in continuazione e insomma non sono il solo ma persone ben più dotte ben più grandi di me condividono allora mettiamoci bene in testo una cosa nel mondo chiamiamolo così della divina volontà non ci sono preghiere nuove non si può moltiplicare preghiere su preghiere però c'è un modo nuovo di pregare innanzitutto c'è una fortissima accentuazione della dimensione personale della preghiere il rapporto a tu per tu a cuore a cuore con Gesù con Maria con Dio Padre con la Santissima Deità con chi volete insomma però questo c'è e si prega nella divina volontà un esempio emblematico è questa cosa che lui si ha detto allora vedeva la Santissima Deità tutta contenta che aveva creato il corpo e ancora non c'era l'anima questa è una una donna con la prima elementare capito io ho cominciato a capire un pochino queste cose insomma non è che c'è proprio la prima elementare adesso non voglio ho cominciato a raccapezzarmi un po' voglio vedere quante persone dotte anche che hanno un pochino già masticato un po' degli scritti arrivano bene a capire questa cosa con la lucidità con cui qua Luisa la esprime allora dice attenzione la volontà divina è eterna attenzione è ciò che si fa inissa questo è un concetto teologico io lo conosco è sottilissimo e anche un po' difficilotto è sempre in atto ne perde mai l'atto presente cioè noi dobbiamo dobbiamo pensare che nella semplicità assoluta dell'atto unico del Fiat Supremo l'unità dell'eterno volere adesso ma questo adesso si può dire in qualche momento sta scorrendo in atto come attuale tutta la storia di tutta l'umanità quella passata quella da adesso è quella che verrà per cui se io entro nel divino volere trovo qualunque atto che Dio abbia fatto in tutta la creazione tutta la storia attualmente presente e attualmente svolgentesi ciò che si fa in essa è sempre in atto ne perde mai l'atto presente svolgendosi svolgentesi tra l'altro come eterno presente attenzione e quindi che si inventa guardate l'amore di Luisa dice io vedo il Signore che smania perché ancora non ha creato l'anima di Adamo e non vedo l'ora di farlo perché così lo ricambia lo anticipo lo ricambio io guardate perciò nel Fiat io voglio anticipare l'amore di Adamo quindi mi vado a intersecare in quel lasso di tempo che storicamente è avvenuto parecchio tempo fa ma nel Fiat è adesso e io dico ti amo prima ancora che tu hai creato l'anima di Adamo ti metto il ti amo mio si può fare come non si può fare e che cosa e e e questo è un atto cioè prosa poesia fatto tanto per farlo no quest'atto qui è un atto che agli occhi di Dio ha un valore strabiliante fantastico meraviglioso questo è anche il principio questo concetto è il principio base dei giri cioè le ore della passione fanno vedere qualcosa di questo io scusate se insisto su queste cose qui no perché ecco vuoi sapere se è entrato nella divina volontà un'altra guarda come preghi allora per esempio nei giorni scorsi c'era la festa di Cristo re anticamente durante quei giorni ma c'è ancora nel breviario in latino breviario nuovo in latino c'era la possibilità di recitare il diesire una bella sequenza che parla del giudizio universale no chi conosce il diesire di Mozart non so è tanta roba a un certo punto il diesire dice allora è una frase bellissima riferendosi a Gesù no cioè essendo venuto a cercarmi un giorno ti sei seduto stanco un lavoro così grande una fatica così grande non sia persa pensiamo a coerenz me sedisti là cercando mi ti sei seduto un giorno stanco lì fa riferimento fuori di metafora vi ricordate il capitolo quarto del Vangelo di San Giovanni la Samaritana Gesù sedeva stanco al pozzo di Giacobbe perché Gesù ha camminato tanto in quegli anni qualcuno si è divertito a fare i conti di quanti passi potrebbe aver fatto Gesù se non mi ricordo male non vorrei dire una stupidaggine in tre anni forse 50.000 km qualcuno ha montato sono tanti sono a piedi ecco va bene a chi gli è mai venuto in mente per esempio sente quella cosa dice signore mio vengo io a sollevarti dalla tua stanchezza ti porto un bicchiere d'acqua e l'asciugavano per asciugarti il sudore noi pensiamo e bambinate che è sta roba se tu entri nel Fiat Supremo entri di involere fai una cosa di questo genere Gesù la riceve la percepisce da te capito e se questa cosa tra tutte quante le creature non l'avranno non l'avrà mai fatta nessuno che mi è venuto in mente di fare una cosa di questo genere tu lo sai che per tutta l'eternità l'hai fatto soltanto te questa cosa qui e riceverai quindi da Gesù la gloria la riconoscenza l'amore di ricambio per questo gesto di delicatezza fatto nei suoi confronti non serve essere stati presenti perché nel Fiat Supremo è tutto presente io spero che sia chiaro insomma cioè capiamo che roba è questa cosa questa questa cosa rileggo il periodo è la volontà allora dice allora qui stiamo continuo il mio abbandono e il creatore forma il corpo umano e prima che Adamo esistesse nel formare il suo corpo lo amava con amore di padre che ama il suo figlio e che non esistendo ancora la vita dell'animo di Adamo non lo ricambiava col suo amore allora che fa Luisa lo ricambio io quindi pensavo tra me la volontà divina è eterna guardate una con la prima elementare come ha capito non mi si venga a dire che la divina volontà è difficile questa c'è la prima elementare effettivamente questi sono concetti molto profondi ma questa l'ha capiti pensavo tra me questi sono pensieri suoi è Luisa che scrive la volontà divina è eterna cioè fuori del tempo eterno presente e ciò che si venisse sempre in atto ha capito pure questo capite è tutto in atto San Tommaso d'Aquino riprendendo Aristotele chiamava Dio atto puro noi quando sentiamo dire atto puro siamo così purtroppo se perdono nessuno si offende ma ci ho detto pure io capivo niente quando sentivo dire atto puro se no se non entri ma che è questa che cretinata atto puro ma che è questa roba ma che è questa cosa qua atto puro è la stessa cosa che dire Dio è la vita la stessa identica cosa identica d'accordo vita è tutto è vivo tutto ciò che è in lui ok ciò che si venisse è sempre in atto ne perde mai l'atto presente quindi basta un movimento della mia volontà per entrare nella divina volontà e farmi presente a questa scena Dio preparato il corpo comincia già a desiderare la loro e ancora non è pronta l'anima stanno tutti contenti dice adesso la facciamo io entro e anticipo ho un'idea originale ma noi possiamo copiarla questa qua ma io vorrei vedere prima che Luisa scrivesse questa cosa se a qualcuno gli era mai venuto in testa prima di Luisa andò a fare una cosa del genere impossibile anche perché non sapeva neanche questo particolare sicuramente Luisa ha questo primato ha visto questa cosa gli è venuto in mente di fare questa cosa ma chiaramente questa è la scritta quindi vuoi assicuro che un giorno mi metto a pregare e dico lo faccio pure mi viene in mente pure a me quindi la seguo ma la prima ad averla fatta è Luisa Piccarrete immaginiamo la reazione che ci ha avuto Gesù quando Luisa Piccarrete ha detto queste cose una reazione fantastica io voglio anticipare l'amore di Adamo e vezzeggiare il mio creatore col mio amore nell'atto in cui forma il corpo umano e voglio fare ecco al suo amore per dirgli nel tuo volere sempre ti ho amato anche prima che tutte le cose esistessero se uno prende questa frase di Luisa Piccarrete la medita due ore è tempo ottimamente speso capite anche nella divina volontà come quando uno comincia a entrare in questo mondo la pianta perde tempo in cose inutili ci stanno delle cose importanti delle cose utili importanti da fare che danno gioia al Signore che provocano piogge di bene sul prossimo io sto a perdere tempo in tante cretinate se perdoni il termine e oggi di tempo se ne perde veramente tanto perdere il tempo è un delitto anche questo più grave di quanto comunemente si pensi e mi permetto sempre tanto per ricordare una cosa che perdere il tempo inutile facendo danni sui social network sui social network dove si perde un sacco di tempo se fanno un sacco dei peccati me un giorno o l'altro come perché c'errò tempo e voglia farò un nuovo promemoria per l'esame di coscienza per i peccati online d'accordo facciamo c'è sta la e-commerce d'accordo e-bay facciamola e-esame di coscienza quindi comportamento cibernetico multimediale web d'accordo web galateo del web galateo soprannaturale del web capito quanti insulti ho dato al prossimo quante chiacchiere non utili ho detto quanti commenti diffamatori ho scritto quanti post offensivi ho fatto e voglia a fare esame di coscienza quanto tempo ho perso a fammi gli affari degli altri andavo a sbirciare i profili così tanto per gusto da andare a curiosare chiudiamo la parete che non c'entra niente con il discorso di questa sera però attenzione poi di rimando perché Luisa ha fatto un exploit quindi ha fatto ma mostrato come si gira nella divina volontà in tutto capite e qui ecco perché questa è un'altra cosa stupenda nostro signore vuole che tu te le inventi queste cose te le devi inventare cioè io non so come si fanno va bene Luisa qua ha fatto un esempio prendi l'ore della passione c'è tantissimi esempi più per il ragione della volontà c'è tantissimi esempi ma poi te lo devi inventare tu ti inventatelo tu vai tu a trovare Gesù in qualche istante della sua vita terrena in qualche momento vai fagliela tu qualche atto di questo genere guarda quello che sai fare guarda se lo ami quanto lo ami attenzione però quando si quando si fanno queste cose che succede che si partecipa delle opere del divino volere tu ci partecipi e quindi che cosa succede succede che nelle cose che fai Dio sente il riverbero della sua volontà perché quell'atto diventa divino allora più sotto Gesù dice come tu respiri lo dice a Luisa noi sentiamo il nostro respiro che respira in te come palpita il tuo cuore il nostro cuore boom 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 così sentiamo il nostro palpito di vita eterna che batte in te questa è una grande cioè noi sappiamo che che diciamo nell'atto preventivo che la divina volontà può diventare il principio profondo anche dei nostri atti inconsci involontari adesso è un pochino più chiaro il perché no perché se tu entri in lei lei scende in te e se lei scende in te avvolge non avvolge tutto il tuo essere e produce questi echi che è tanta roba allora Gesù dice anche il nostro volere è il rivelatore dell'opera della creazione solo esso può rilevare tutti i segreti d'amore nascosti Adamo non seppe tutto quanti stratagemmi e finezze amorose mettemmo nel creare l'anima e il corpo Adamo non ha potuto sapere tutto perché perché ha subito tagliati i ponti con la divina volontà che Gesù chiama esplicitamente il rivelatore dell'opera della creazione allora prosegue Gesù più avanti Adamo si sottrasse adesso al volere divino perdette il rivelatore e perciò non si sa quanto lo amamo e tutto ciò che facemmo per lui nel crearlo ma ecco perché prosegue sentiamo l'irresistibile amore che il nostro fiat venga a regnare come in cielo o così in terra perché affinché dopo tanti anni di silenzio e di segreti vi asfoga le sue vampe e ritorni ad essere il rivelatore della creazione e qui c'è una cosa importante perché poco si conosce di tutto ciò che facemmo nel creare l'uomo detti in altri termini non si sa quasi niente di quanto abbiamo amato l'essere umano non si sa quasi niente e perché non si sa quasi niente chiudiamo così la puntata odierna la volontà umana tiene come addormentato il povero uomo lui dorme e il sonno gli impedisce di sentire e di vedere tutte le carezze e le finezze d'amore che gli fa il suo padre celeste e le sorprese che gli vuol far conoscere il sonno gli impedisce di ricevere le gioie e la felicità ricordiamo gioia e felicità che gli vuol dare il suo creatore e di comprendere lo stato sublime della sua creazione l'uomo non si rende l'uomo che fa il megalomani che fa lo splendido non si rende minimamente conto dello stato sublime della sua creazione e il fatto che fa sempre la testa sua non si applica a stare aperto al Signore a conoscerlo meglio ad aprirne il cuore lo priva di tutta questa roba qua non sente non vede le carezze le finezze d'amore di Dio carezze finezze d'amore e le sorprese che gli ho far conoscere abbiamo visto prima le sorprese sono sorprese negli scritti di Luisa si trovano tante cose alcune sono cose molto forti d'accordo molto forti che manifestano un rapporto come dire tra Gesù è la creatura che può uscire dagli schemi di una certa religiosità e può provocare delle reazioni di vario genere molto interessante è che tu ti interroghi nel cuore che reazioni provoca in me leggere certe cose vedere certe espressioni vedere certe frasi se vogliamo razionalizzarle come fa qualcuno o se le prendiamo così come sono a me l'impressione che fanno è questo lo dico subito vedo queste cose benissimo di come Gesù ama la creatura io fino a prima di conoscere certe cose non ne avevo neanche la più pallida idea e non cioè la più pallida la più pallida povero uomo assonnato assonnato per il vero bene e sordo per ascoltare dalla mia volontà la sua nobile storia la sua origine la sua altezza o bellezza meravigliosa quando è che l'uomo si sveglia apre gli occhi e attizia le orecchie per fare cosa per sentire il peccato le passioni o cose che non hanno un principio eterno qualcuno lo deve svegliare l'uomo insomma chi lo sveglia dice Gesù tutte queste rivelazioni che sto facendo ci dobbiamo svegliare la voglio piantare di vivere in una maniera così poveraccia meschina piccola mediocre fare una vitarella per bene che va o una vitaccia spesso e volentieri la voglio smettere o voglio continuare a dormire dinanzi alla volontà divina e a stare sveglio soltanto per le piccole cose umane o semplicemente per fare sempre tutto e per tutto la mia propria volontà umana questa è una cosa che dipende da noi ogni conoscenza che riguarda la mia volontà divina è un richiamo dice Gesù ed è una voce che metto ed è un grido che mando per svegliare l'uomo dal sonno dell'umano volere finiamo da dove siamo partiti il sonno dell'umano volere ossia la tragedia delle tragedie ecco quindi speriamo di svegliarci presto dal sonno dell'umano volere e invece di non addormentarci mai per la veglia della divina volontà che non sono soltanto le veglie di preghiera che facciamo qualche volta nella divina volontà ma in questo stare continuamente e costantemente ecco in atto di ricevere tutta l'abbondanza di amore e di vita che la volontà divina serve a coloro che le si aprono e che accorgono la settimana prossima probabilmente per chi è assiduo frequentatore delle dirette di queste catechesi che ordinariamente vanno in onda il martedì sera quasi certamente la diretta sarà di mercoledì non di martedì comunque chi segue questi cicli basta che vede le mie pagine dei social e sarà aggiornato comunque posso già dire che quasi certamente la settimana prossima ci vedremo in diretta per il mercoledì la mia benedizione è una divina volontà a tutti Santa Notte Ave Maria